su calcio d'angolo battuto da Van der Eiken è la rete del primo tempo dietro colpo di destra di Collovati poi c'è un intervento simultaneo di Tassim c'è fallo di Tassotti su Briaschi tenta una acrobatica rovesciata a Briaschi ha battuto la punizione Iachini sulla barriera rimette in avanti Van der Eiken tocca Tassotti che resiste agli attacchi di Briaschi gli ha restituito la palla Briaschi Van der Eiken Iachini subito cross al centro colmato Novellino passaggio indietro di Corti in avanti di Onofri apertura di Briaschi Boito tiro di Boito ribatte Baresi calcio d'angolo Briaschi 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 Ancora Briaschi salta di testa Briaschi e la palla è a il lancio è su Briaschi esce Baresi sconfitta a due minuti dalla fine ha battuto Briaschi riceve ancora da Testoni cross di Briaschi